Sono Antonio Faccioni, siamo qui allo stand di Paso, sono un consigliere di Paso e seguo la parte commerciale e quindi siamo qui per presentare una serie di nuovi prodotti che sono stati sviluppati soprattutto per i sistemi di evacuazione audio, sistemi certificati N54 rispondenti appunto alla normativa degli impianti di evacuazione audio collegati ai sistemi antincendio. Quello che presentiamo la novità è un sistema modulare che si compone di un controllore che riesce ad avere sei linee in uscita alle quali possiamo collegare direttamente degli amplificatori digitali quindi indipendenti per pilotare delle zone di varia potenza, sono amplificatori da 125 watt, 250 watt e 500 watt, amplificatori in classe D quindi amplificatori digitali dotati di intelligenza a bordo in quanto riescono a supervisionare e quindi fare il controllo dell'impedenza delle linee. Possiamo abbinare dei router i quali riescono a switchare in altre sei zone di uscita la potenza che mettiamo in ingresso tramite degli amplificatori in ingresso per pilotare la musica e la parola. L'amplificatore della musica riesce a fare da backup in caso di guasto dell'amplificatore della voce e con questo sistema riesco a raggiungere una copertura massima di 216 zone totale. Inoltre presentiamo una serie di diffusori, diffusori acustici che vanno dalle plafoniere da incasso, diffusori da parete, proiettori, trombe eccetera che sono tutti certificati secondo la norma M5424. In questo modo quindi riusciamo a offrire diciamo un pacchetto completo per quanto riguarda i sistemi di emergenza. Quindi l'azienda PASO sta investendo molto in questo settore grazie anche al contributo di FBT in quanto ormai PASO fa parte del gruppo FBT e quindi sta puntando molto nello sviluppo di questi nuovi prodotti.